Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Deuter Futura Pro, modello 36 da uomo e 34 SL da donna. Ne vediamo naturalmente pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come solito a parlare del peso. Modello da uomo siamo sul 1,6 kg. Modello da donna 1,5 kg. A livello di peso ci sta, nel senso sono confrontabili a tanti altri zaini della stessa categoria, quindi ci può stare. Forse sono un centinaia di grammi un pochino più pesanti, ma poi vedremo dove vanno a finire questi centinaia di grammi. Iniziamo come al solito a parlare dello schienale. Tecnologia Deuter Air Comfort, una tecnologia che ci è piaciuta. Sì. Una tecnologia che è, diciamo, a metà tra l'ergonomico e il telato, nel senso che abbiamo tutta una bella tela a metà dello schienale e poi abbiamo tutta una zona un pochino più ergonomica sulla parte laterale dello schienale che poi va a congiungersi con la fascia lombare. A livello di traspirabilità ci sono trovati molto bene. Sì, confermo. Ma anche a livello di comfort. Sì, ma a livello di comfort, tra la fascia lombare e lo schienale, io penso che sul modello maschile ci si possa portare tranquillamente fino a una decina di chili. Sì, confermo anche sul modello femminile. Dagli 8 ai 10 chili è un peso che va bene. A livello poi, per quanto riguarda la traspirabilità anche della fascia lombare, anche questa è fatta veramente molto bene. Anzi, la fascia lombare ci ha convinto. Sì, noi l'abbiamo provato in giornate primaverili e ci siamo trovati bene, quindi ci aspettiamo che anche in estate non ci dia grandi problemi di sudorazione. Per quanto riguarda la fascia lombare, poi abbiamo due tasche, uno sulla destra e uno sulla sinistra, molto grosse. Ci stanno dentro dei telefoni anche dimensioni abbastanza generose e avendone due possiamo portare magari da una parte del telefono e dall'altra una crema solare, per esempio. Per quanto riguarda la chiusura sul davanti, fatta molto bene, anche a pieno carico, non si apre e poi a noi piace sempre che abbiamo la possibilità di chiudere il cordame che avanza con un laccetto per evitare che sballonzoli. Quindi davvero una fascia lombare promossa? Promossa. Per quanto riguarda gli spallacci sono abbastanza classici, il materiale è lo stesso che troviamo nella fascia lombare, quindi non fa sudare, è confortevole. In più troviamo la classica chiusura pettorale che scorre lungo il binario per poterla adattare e regolare in base al nostro corpo. E altro punto a favore è questo piccolo laccetto, fettuccia, per poter inserire gli occhiali da sole. Cosa che manca è che non abbiamo trovato il fischietto, non c'è su questo zaino, o almeno non c'è su questi modelli. Concludiamo parlando dello schienale, citandovi il sistema Barioflex di Deuter, che è molto molto interessante, ovvero fa sì che noi possiamo portare lo zaino innanzitutto con molta comodità, quindi anche per tante tante ore senza avere problemi alla schiena. E poi ci lascia molto liberi nei movimenti, questo vi assicuro, soprattutto se dobbiamo fare magari dei sentieri in cui dobbiamo anche mezzo arrampicare, quindi dobbiamo portare le braccia più in alto rispetto alle nostre spalle, vi assicuriamo che questa tecnologia Barioflex si sente e ne si sente la bontà. Assolutamente, il bilanciamento di questo zaino è una di quelle cose che mi ha colpito di più. Abbiamo girato gli zaini e iniziamo ad escriverveli dalla parte laterale. Qui troviamo una classica tasca rete dove andare a riporre la nostra borraccia. Riusciamo a estrarla da soli ma non a riporla, dovremo o togliere lo zaino o comunque farci aiutare, non c'è la possibilità di toglierla e rimetterla da soli. Poi troviamo, salendo pian piano sopra alla tasca con la borraccia, una zip che va a rivelare una tasca nascosta. Questo tipo di tasca la troviamo sia a destra che a sinistra. Ed è molto interessante perché ci permette di poter portare una cartina, qualcosa di abbastanza piccolo, ma sono due tasche in più in aggiunta, quindi possono sempre tornare comodo in tante situazioni. Inoltre abbiamo la possibilità di poter richiudere lo zaino con due fettucce, una posta nella parte inferiore non apribile e una posta nella parte superiore apribile con clip. È molto facile, davvero, basta tirarle e lo zaino si chiude. Passiamo ora a parlare della parte posteriore dello zaino. Troviamo innanzitutto una tasca a rete, elastica, quindi dove possiamo andare a riporre un secondo strato, una cartina, qualsiasi materiale che vogliamo avere a portata di mano. Troviamo poi invece per i bastoncini a destra le fettucce per andare a riporli, mentre a sinistra troviamo una fettuccia per andare a riporre la piccozza. Inoltre in aggiunta ci sono anche quattro piccoli ganci per andare a riporre un eventuale M-Tolder se dovessimo fare alpinismo. Abbiamo possibilità, come diceva Sara, di portare sia la piccozza che anche il casco. Per quanto riguarda poi la parte laterale opposta a quella che vi ho descritto prima, è uguale identica all'altra, quindi tasca con la rete in basso, la stessa identica tasca sopra chiusa da cerniera, quindi diciamo che i due lati sono abbastanza simmetrici. Arriviamo infine a parlare della parte superiore del cappuccio, qua troviamo due tasche, una posta nella parte esterna dello zaino in cui possiamo arrivare tranquillamente anche in movimento, una posta nella parte interna. Su quella interna troviamo anche le indicazioni come chiamare soccorso in caso ce ne dovesse essere bisogno. Sono due tasche comunque dove ci sta dentro abbastanza materiale, non il solito classico pacchetto di fazzoletti, ma davvero ci può stare dentro un bel po' di oggetti. Per quanto riguarda la chiusura dello zaino, questa è costituita dal classico laccio elastico da poter tirare per appunto andare a richiudere lo zaino. Infine per quanto riguarda la sacca interna dello zaino, questa è divisa in due, abbiamo la parte superiore e la parte inferiore, all'interno è apribile per renderla una tasca unica, e per quanto riguarda il sistema acqua, come dicevo abbiamo la possibilità di portare all'esterno due borracce. La possibilità di mettere all'interno una vescica e far uscire poi tutta la prolunga sul davanti, e in dotazione sia sul modello maschile che femminile abbiamo inoltre anche i due classici copri zaino impermeabili da poter utilizzare all'occorrenza. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi Deuter Futura Pro. Ve li consigliamo? Sì, direi di sì. Sì, a noi sono piaciuti tanto, vengono venduti poi dei prezzi, secondo me, onesti, nel senso sito Deuter, sono 200 euro entrambi, online si trova tranquillamente sui 140-150, quindi per le caratteristiche che hanno sono degli zaini polifunzionali che potremo usare sia per il trekking ma anche per fare del semplice alpinismo, quindi noi sinceramente te li consigliamo anche per i materiali. Assolutamente, sono materiali duraturi, abbiamo sfregato contro rocce, rami, eccetera, non ci sono segni di usura, anche le zip e le clip funzionano bene, quindi sinceramente è uno zaino che compri oggi ma ti dura anche fino a 10 anni, quindi è un investimento che vale la pena, secondo me, soprattutto appunto per il prezzo. Detto ciò ragazzi, noi nella esperienza siamo stati esaurimenti e sostivi anche per questa recensione, noi vi ringraziamo per la guardata e ci vediamo alla prossima. Ciao!